Il progetto è un progetto innovativo a produzione monoprofessionale perché si vuole valorizzare quella che è la competenza, la professionalità ostetica e garantire alla donna, ma non solo alla coppia, un'accoglienza, un accompagnamento a tutto dono che abbraccia tutto il percorso nascita per vivere al meglio l'esperienza del parto, ovviamente rispettando quelli sono i criteri di accuratezza, di sicurezza e di qualità assistenziale.